segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te severo daniette gli ucraini combattono ancora senza sosta per evitare la totale caduta della città sono ormai passati 120 giorni dall'inizio della guerra sotto continui attacchi anche la vicina lisi shansk qui in questa settimana le forze russe sono avanzate di altri cinque chilometri ed ecco carchi solo nelle ultime ore qui hanno perso la vita dieci civili e altri dieci sono rimasti feriti nei raid russi questa invece è mikolaiv dove gli ultimi bombardamenti hanno colpito due grandi terminal del grano ma anche diverse abitazioni civili io sono in lavoro, lavoravo in la cura di quando si avvicinano inizio inizio, noi siamo inizio e esplodendo e siamo inizio, noi siamo inizio, tutti ci sono inizio Grazie a tutti. Grazie a tutti.